Il Consiglio Comunista per prima cosa proporremo un tavolo di confronto con le categorie dei lavoratori del comparto agricolo, con chi si impegna in questo settore strategico per la nostra città. Per l'agricoltura sociale proponiamo l'assegnazione dei terreni incolti a chi ne faccia richiesta, partendo dai disoccupati e fornendo macchinari incomodato d'uso. Per i giovani ma anche i meno giovani proponiamo sgravi fiscali per chi entra nel settore, specialmente per le cooperative e per quelle aziende che applicano contratti stabili. Riteniamo la formazione un aspetto determinante, cosa di cui dovrà occuparsi il Comune, concorsi sull'enologia o sull'agricoltura ecosostenibile per fare degli esempi.